Eccoci qua nella cucina del Grigio, il Grigio Chef sono io. Come ingredienti semplici grande effetto. Oggi Luganica in umido. Cosa serve? 600 grammi di Luganica, 700 grammi di passata di pomodoro, una cipolla, uno spicchio d'aglio, sale, olio e pepe. Luganica in umido, Luganica, Luganica, un sacco di nomi, ma comunque vabbè, è sempre Luganica. Ricettina semplicissima ma gustosa, se poi la compriamo in un pezzo di polenta, la facciamo un po'... bel bicchierone di rosso e via. Bellissimo, iniziamo subito. Allora, cosa facciamo? Appettiamo la cipolla, metto un filo d'olio, grazie. Vada, vada, mettiamo la cipolla a soffriggere. Mentre si prepara il soffritto della cipolla iniziamo a tagliare a pezzetti più o meno, così. Ecco qua, perfetto. Com'è la cipolla pronta? Direi di sì. Sì. Mettiamo il pomodoro, mettiamo anche lo spicchio d'aglio e iniziamo a far rosolare la Luganica. Non mettiamo olio per girare il grasso su uno, non mettiamo l'olio. Via, ecco, bravissima, bravo. Qui, dieci minuti che possiamo rosolare bene. Eh? Beh, direi che qui siamo pronti. Il sale, eh? Buono, eh? Saliamo il nostro subietto al pomodoro. Adesso prendiamolo in manica e la mettiamo. Si poteva anche fare una cosa che buttava magari un po' più pesantina, quindi usare una pentola antiaderente e versare il pomodoro all'interno. Però c'era un po' il grasso, un po' più pesante, eh? Qui invece la facciamo un po' più light, eh? Un po' light. Tolgo lo spicchio d'aglio e qui cosa facciamo? Abbiamo un coperchio, copriamo, fuoco, basso, 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 basso per mezz'oretta. Se dovesse restringersi troppo, un goccino d'acqua. Eh? Ci vediamo dopo. Ci siamo pronti. Lei con la polenta, sempre puntuale, bravissimo. Vediamo qua. Ecco la polenta. Vediamo così questo, eh? Bravissimo. Tritatina. Cotto. Speriamo. Perfetto. Anche quella con la... Perfetto. Anche quella con la...